Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Zeynep si innamora di Mehdi in My Home, My Destiny. Questo è quello che rivelano le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera turca, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.45 circa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La protagonista, interpretata da Demet Özdemir, volto familiare al pubblico di Canale 5, avendo interpretato il ruolo di Sanem Aydin nella serie Daydreamer con Khan Yaman, inizierà piano piano a provare un inaspettato sentimento nei confronti di Mehdi, quell'uomo che si è ritrovata al fianco e che inizialmente era convinta che l'avrebbe resa soltanto infelice. La storia tra lei e Mehdi, il personaggio che ha il volto di Ibrahim Selikol, è partita in salita. Inizialmente i due sembravano avere stabilito una certa sintonia, ma quando Mehdi ha capito chi fosse in realtà Farouk, tutto è cambiato. A un certo punto, Zeynep è pronta per fare le valigie e iniziare una nuova vita a Londra, lontana da Mehdi e dalla sua difficile famiglia, ma poi scoppierà l'amore. Succederà in maniera graduale e questo sentimento sorprenderà la stessa Zeynep. La donna ha paura di rovinare tutto, come spesso le è capitato in passato, e per questo motivo fatica a lasciarsi andare. Zeynep sa di non aver mai provato qualcosa di simile per nessuno prima di allora, eppure il timore di aprire il proprio cuore e di essere ferita sembra avere la meglio. Quando arriverà la dichiarazione da parte di Mehdi, tutto lascia pensare che lui e Zeynep siano pronti a compiere insieme un altro passo importante nel loro rapporto. Eppure, sulla prospettiva del loro lieto fine, continua a stagliarsi l'ombra di Benal, la donna che potrebbe rappresentare un considerevole ostacolo alla coppia. Zelia e Cemile, rispettivamente la madre e la sorella di Mehdi, cercheranno di prendere la situazione in mano, ed esorteranno Benal a lasciare perdere Mehdi. Purtroppo non sarà così facile per Mehdi e Zeynep ottenere un po' di serenità. My home, my destiny. Zeynep si innamora di Mehdi, e insieme adottano Kibrit. Come abbiamo visto, in queste nuove puntate della SOP turca, Zeynep si innamora di Mehdi. My home, my destiny rivela dunque nuovi colpi di scena nelle nuove puntate in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 15.45 su Canale 5. Demet Özdemir, alias Zeynep, piano piano cambia atteggiamento verso il suo sposo, e inizia anche a provare un sentimento del tutto diverso nei confronti di Mehdi. La giovane ora non vede più nell'uomo soltanto infelicità, ma vede nascere un'attrazione verso di lui. Partiti con un certo feeling e sintonia, i due sembravano essere destinati ad un futuro raggiante, ma poi Mehdi ha capito il ruolo vero di Farouk, e tutto è cambiato. I litigi tra loro aumentano tanto che Zeynep è pronta ad andarsene per iniziare una nuova vita insieme a Farouk a Londra. Tuttavia, per uno strano gesto del destino, tra i due sposi scoppia un amore vero. A poco a poco, questo sentimento sbalordirà la stessa Zeynep. Più per paura che per altro, Zeynep fatica a lasciarsi andare con il marito, teme di rovinare ogni cosa come successo già in passato. La ragazza si rende conto di provare un nuovo e unico sentimento, qualcosa che in passato non le è mai capitato con nessuno, ma ha paura ad aprirsi. Alla fine, anche Mehdi rivelerà il suo amore per lei, e a questo punto, per i due, sembra arrivare la possibilità concreta di un nuovo rapporto. Ma il lieto fine sembra molto lontano, perché Benal potrebbe rappresentare un vero e proprio ostacolo per loro. Interverranno anche la madre e la sorella di Mehdi, Zehila e Cemile, che tenteranno di persuadere Benal a lasciar stare Mehdi. La felicità per Mehdi e Zeynep, però, sembra ancora lontana. Zeynep e Mehdi, insieme, adottano Kibrit. Quando esce di galera, Mehdi è convinto che Zeynep sia ancora con lui unicamente per pietà, e teme che presto lei lo lascerà per fuggire con Farouk. L'uomo ancora non sa che sua moglie ha rifiutato la proposta di Farouk. Intanto, Zeynep chiede a Mehdi di adottare Kibrit, ma lui rifiuta. Nuh e Emine, per tentare di portare unione tra loro, organizzano una festa. E qui succede un fatto equivoco. Mehdi, infatti, vede Ekrem, il padre adottivo di Zeynep, abbracciato con una donna che non è sua moglie. L'uomo cerca di non far notare la cosa a Zeynep, ma i due saranno sviati da qualcosa di ben peggiore. Infatti, Mehdi deve affrontare un uomo sconosciuto che tenta di rubare il portafoglio ad un bambino indifeso, e questa azione FA sussultare Zeynep, che prova ancor più sentimento verso di lui. I due, alla fine, decidono di adottare Kibrit, e a casa si festeggia. Le due madri sono felici, sperano che finalmente il matrimonio sarà consumato con amore. A casa di Zelija, però, si presenta Benal, e tutta la famiglia di lui sa bene chi è questa donna, ma Zeynep non sa nulla di lei e della relazione avuta con suo marito. La festa comunque continua, e tutti sono felici per Kibrit. Mehdi e Zeynep sembrano anche decisi a vivere qualcosa in intimità, iniziando così a dormire nello stesso letto. Anche Nermin ed Ekrem vengono a sapere dell'adozione, ma non ne sono felici, e pensano a come mandare all'aria il progetto della figlia adottiva. Zeynep, dopo aver trascorso la notte col marito, prepara la colazione, e poi si prepara per l'arrivo dell'assistente sociale. L'assistente sociale è arrivata nella casa dei due sposi. Dovrà decidere se dare o meno il consenso all'adozione di Kibrit. Il consenso lo darà solo se le condizioni della famiglia saranno idonee ad ospitare una ragazzina minore. Sembra che tutto proceda per il meglio fino a quando non arriva a casa Bayram completamente ubriaco. L'assistente sociale resta sconvolta e decide di portar via Kibrit. Inoltre, dice a tutti che farà rapporto su quanto accaduto, lasciando trasparire che l'adozione non si farà. Zeynep, a questo punto, diventa una furia e si scaglia contro il padre biologico dicendogli in faccia tutto ciò che pensa, dei suoi abusi e del suo alcolismo. Intanto, Mehdi vuole parlare con Ekrem dell'altra sera, quando lo ha visto nel locale notturno in compagnia di un'altra donna. Inoltre, è anche venuto a conoscenza che è stato lui a farlo arrestare, denunciandolo. Ekrem, però, scapperà dal confronto e Mehdi inizierà ad inseguirlo fino a che non si ritroverà in un ospedale. Qui Mehdi scopre che il padre adottivo di Zeynep ha un amante e una figlia nascosta. Tuttavia, dovrà ancora far finta di niente perché in ospedale incontra anche Zeynep e Benal e scopre anche perché si trovano lì. Intanto, Bayram è stato cacciato fuori casa e così l'uomo esagera ancora con l'alcol e sviene proprio di fianco al binario del treno. Cosa succederà? Verrà investito dal treno? Scopritelo iscrivendovi al canale adesso! Grazie, a presto!